Tante grazie, per me è un grande onore di stare qui a Bologna celebrando i dieci anni di attività clinica di Ginepro e più anni compartendo con Ginepro l'educazione medicale. Io non parlo italiano, parlo italiano, però aspetto che il mio mensaggio sia chiaro a lei, mi ringrazio a Marco Filicori e a tutti gli staff per il convito e Marco mi ha demandato che in questa prima conferenza io parlare di quello che penso che è stato importante nell'evoluzione della procreazione medica assistita nei dieci ultimi anni. Per me la cosa più importante ha stato, senza nessun genere di dubbio, il premio Nobel conceduto a Bob Edwards perché è il riconoscimento del sviluppo di una tecnica medicale che ha cominciato a più di 30 anni e io penso che è stato non solamente per lei, sino per tutti noi che lavoriamo cada giorno con la procreazione medica assistita un riconoscimento scientifico di primo livello. però se dobbiamo fare un'analisi delle dieci ultimi anni, per me la frase è probabilmente che abbiamo passato della procreazione medica assistita e spettacolo alla procreazione medica assistita responsabile. io penso che questa frase fa un resumen di tutto lo che è occorrito e per fare una forma controllata la mia conferenza io penso che cinque punti sono importanti in questi dieci ultimi anni. abbiamo biomarcatori, biomarkers per fare il follow-up della copia infertil. Abbiamo nove farmaci che io parlerò solamente un po' perché il professore Filicori parlerà della stimolazione ovuliana. Abbiamo biomarkers che sono dedicati solamente per trovare il meglio l'embrione e fare un single embryo transfer. Io penso che la congelazione ovositaria che è stata sviluppata per la legge italiana principalmente ha stato anche un sviluppo importante. E finalmente le cellule esterminali sono qui, sono al laboratorio e abbiamo nove cose per il futuro immediato. In definitiva abbiamo oggi una medicina personalizzata, cada paziente è differente e dobbiamo fare un trattamento e un seguimento differente e tutto è basato nella ciencia, nella ricerca e basato nell'evidenza medica. Per cominciare, due esempi. Le biomarchi per il follow-up della copia infertil è un esempio che tutto il mondo sabe e l'importanza dell'ormona antimulleriana. L'ormona antimulleriana è un marcatore molto affidabile della riserva follicolare, non si modifica durante il ciclo, possede un valore predittivo per la procreazione medica assistita e è un marcatore affidabile per predecire la risposta dell'ovario alla stimolazione ovarica. Se la donna ha più di 15 picomolli di ormone antimulleriana aspettiamo una iperresposta e se per contro i livelli antimulleriana sono bassi la risposta è molto bassa. Oggi facciamo una stimolazione ovariana d'accordo ai valori dell'ormona antimulleriana e della presenza o no ecograficamente delle follicoli antrali. C'è un'approximazione molto personalizzata. Un'altra cosa che è più nuova per lei però io penso che è molto interessante e abbiamo pubblicazione medica. Dalle anni 50 abbiamo solamente un test per predecire la receptività endometriale. C'è l'istologia in face, out of face, le criterie di noge che tutti noi abbiamo studiato alla scuola, alla facoltà di medicina quando abbiamo fatto la ginecologia con il professore Flamini. Oggi sono all'età della biologia molecolare e perlottanto l'istologia deve essere storia. Noi abbiamo sviluppato un test che contiene più di 200 geni che sono relevanti nel momento dell'implantazione embrionaria. Si chiama ERA, Endometrial Resetivity Assay e qui è la prima pubblicazione scientifica dove è stato presentato al Fertility and Sterility e basicamente con il test che facciamo nel giorno LH plus 7 che è il momento dell'implantazione o se facciamo un test o se facciamo un ciclo artificiale con estrogenos e progesterona e nel giorno progesterona plus 5, questo è il perfilo di un endometrio che c'è il receptivo. Questo è un altro esempio di un endometrio che c'è il receptivo anche. E qui abbiamo un esempio di un'espressione genica totalmente alterata o qui abbiamo un altro esempio di un endometrio che non è il receptivo. Facciamo questo test e sappiamo esattamente gli geni che sono attivati e non sono attivati. Però lo che è molto interessante è che il biologista, il scientifico è capace di dire che dobbiamo fare, che l'endometrio non è receptivo nel momento della biopsia, però per questa donna è possibile avere un endometrio receptivo se si fa il transfert due giorni prima del momento o due giorni dopo del momento, perché in questo momento è quando le geni che sono importanti per l'implantazione sono espressati. Abbiamo otto donne che hanno fatto l'era in tutto stato negativo, tutto è non receptivo endometrio. Facciamo un'altra volta, un secondo era e abbiamo donne che è positivo e non passa niente, però queste donne hanno cambiato, facciamo l'era e il dia progestione plus 5 e continua non receptivo e queste donne di cambiare il giorno di plus 4, plus 7 o plus 5 a un ciclo naturale e l'endometrio si torna receptivo. E se qui non è receptivo torniamo a fare due giorni più tardi più tardi e si torna finalmente receptivo e andiamo buscando il momento della receptività e poco a poco abbiamo gravidanze in donne che non sono gravide prima. E questo è un altro esempio di come la medicina personalizzata viene alla nostra clinica e noi dobbiamo trattare le donne una per una. Secondo punto che considero importante sono le medicine, le diverse farmaci che hanno stato introduciuti negli ultimi dieci anni nel nostro armamentario terapeutico. Io non voglio parlare molto perché il professore Filicori parlerà della questione, però per me abbiamo due farmaci che hanno stato molto importanti. Gli antagonisti del genere H sono molto importanti, non esattamente perché i risultati clinici sono migliori che con gli agonisti, probabilmente noi e qui abbiamo due meta-analisi che probabilmente la possibilità di gravidanza è un piccolo menore con gli antagonisti, probabilmente, però l'esperienza io penso che è molto importante, però la questione ha stato la possibilità di utilizzare gli agonisti e un agonista per desencadenare l'ovulazione e evitare totalmente, evitare totalmente la possibilità di iperestimulazione ovarica. In pazienti, a chi ha un meta-analisi che claramente favorece l'utilizzazione di antagonisti per evitare la iperestimulazione e anche alle donatrici di ovociti è claramente un'arma molto valuabile per noi per evitare totalmente l'iperestimulazione. L'iperestimulazione ovariana deve stare nella prossima decada una parola disapparciuta del nostro diczionario medico, perché abbiamo medicamenti sufficienti per questo. Il secondo medicamento è più nuovo, però è molto interessante, è patient-friendly, è buono per i pazienti e funziona che c'è la corifolitropina alfa, che come è conosciuto è un medicamento che lavora durante sette giorni, fa la vita più facile per i nostri pazienti, con la stessa probabilità di gravidanza. Per l'attanto io penso che questi due sono importanti avanzi per la prossima decada. Il terzo c'è lì biomarcatore che utilizziamo al laboratorio. Il laboratorio per me è stato una delle cose più importanti nella passata decada, la decada del 90, probabilmente caratterizzata per stare l'epoca del PGD, del Preimplantation Genetic Diagnosis, e indudabilmente per l'ICSI. Allora abbiamo invertito una grande quantità di ricursi in avere sofisticati laboratori. Però io penso, e credo che abbiamo anche una conferenza sopra i laboratori, io sono ginecologo, però penso che nel futuro il laboratorio di fecundazione in vitro sarà più e più automatizzato. Penso che, infatti, io gli raccomando nel prossimo mese di giugno un paper sobre la possibilità della totale robotizzazione del laboratorio di riproduzione assistita in fertility and sterility, probabilmente è online, perché abbiamo molti metodi di selezione espermatica, l'electroforesis, PIXI, IMSI, eccetera, eccetera. Abbiamo, e è pubblicato nel 2002, la possibilità del denunamento ovocitario automatico. Abbiamo una possibilità di autorricerca di espermatozoi mobili. L'auto XI ha stato anche pubblicato in animali. Microfluidics ha stato pubblicato per il mio collaboratore a Marcos Meseguer. Il controllo del sviluppo embrionario anche per Marcos Meseguer con l'embryoscope, che parlarei un minuto allora. E, finalmente, abbiamo tante pubblicazioni di proteomics e metabolomics dell'embryone che io penso che tutti insieme farà, nei prossimi dieci anni, un laboratorio più stabile. Io comparo sempre il laboratorio con la fabbrica di automobili. Quando la Fiat ha cominciato a fare manualmente le macchine, è un'epoca, però quando Ford ha introduito la cadena di produzione, la qualità è aumentata e la produzione è stata maggiore. Io penso che l'automatizzazione è buona per il laboratorio. Di un esempio c'è la macchina che noi abbiamo sviluppato con una compagnia... Funziona o non funziona? Sì. Sì, no? Con una compagnia danesa che si chiama Unisense. È una macchina conosciuta come l'embryoscope. Basicamente lo che fa l'embryoscope è controllare, secunto a secunto, il disinvolupamento dell'ovulo fecundato a fine a tre o sei giorni. E con questo disinvolupamento noi siamo capaci di analizzare inizialmente il sviluppo morfologico dell'embrione, ma in un futuro altre cose come il consumo d'oxigeno, eccetera, eccetera. Qui abbiamo una pellicola del sviluppo embrionario, però allora la fixazione c'è alla kinetics. Quando, in quel momento, gli embrioni arrivano all'estadio di due cellule, quando arrivano all'estadio di tre cellule, di cinque, di sette, di otto, eccetera. Nel secondo film vi mostrerò un esempio che è molto interessante. Lei va a vedere quattro embrioni differenti che arrivano all'estadio, però se lei compara la velocità di cada embrione, verrà chiaramente come la velocità è distinta. Inizialmente, e finalmente sono la stessa, però lei ve che la velocità di dividirsi l'embrione, di arrivare all'estadio di due, di quattro, di otto cellule, è distinta. E allora sono molto parecciuto, però il sviluppo di questo embrione è stato totalmente differente. E sappiamo quando deve arrivare l'embrione all'estadio di tre cellule o quando deve arrivare, per esempio, al di cinque cellule. Se l'embrione si è sviluppato in rango, in queste ore, entro 35 e 40 ore, questa c'è la possibilità di implantazione. E c'è la stessa per cinque cellule. E se non sta in rango, è un embrione con una possibilità di implantazione poverina. E con questo esempio, con l'embryoscope, abbiamo migliorato sensibilemente la possibilità di successo e la fecundazione assistita. La seconda cosa che è molto interessante, c'è il diagnostico genetico, il screening, la possibilità di eliminare gli embrioni che sono cromosomicamente anormali. Probabilmente lei sappia che è stata morta. Morta è sotterrata il PGD. Però allora è come Lazzaro. Vive un'altra volta. E è perché io penso che non è stata totalmente morta. È stata una grande critica di gruppi che non ha avuto sufficiente esperienza. E l'esperienza è molto importante per questo metodo, perché è molto delicato, perché c'è una cirurgia all'embrione. Però non solamente c'è la cirurgia all'embrione, ma la possibilità di analizzare le 23 pari di cromosomi e non solamente 8 o 9 pari. Oggi abbiamo l'arrise del CGH e abbiamo la possibilità di biopsiare l'embrione nel giorno 3 o nel giorno 5 e dopo si fa l'analisi in 24 ore e abbiamo con l'arrise la possibilità di avere embrioni normali, embrioni con una monosomia, manca un embrione e se vede qui, quando abbiamo uno di più abbiamo qui, trisomico, e un embrione caotico. I risultati sono differenti, però voglio detenermi un momento per mostrarvi un numero che sono molto interessanti. La prima cosa è la differenza del FISH degli ultimi anni al CGH che noi praticiamo oggi. Qui abbiamo donne che hanno avortamento di ripetizione, faglio di fecundazione in vitro ripetita, previo a neoploidia, fattore mascolino severo o donne che sono più di 40 anni. Però lo che è interessante in questa diapositiva è la proporzione di embrioni anormali che abbiamo con la nuova tecnica delle arrise e la proporzione di embrioni che sono abnormali con le arrise e erano normali con il FISH. E questo viene qui, che non presentagge di embrioni che non è stato diagnosticato con il FISH 24-23-40. Siamo capaci di trovare più e più embrioni anormali e qui la proporzione di embrioni anormali è grande, è alta, 70-62-68%. Per lo tanto è una tecnica più sensibile perché analizza tutto il mappa cromosomico e però i risultati sono migliori. La nostra esperienza non è molto grande, abbiamo approssimamente 200 cicli all'ora donne di meno di 41 anni donne di più di 41 anni e la tassa di gravidanza è straordinariamente buona e la tassa di impante embrionario è straordinariamente buona. Ripito, questi dati sono iniziali, sono la prima esperienza però la cosa fa una differenza, una differenza con il FISH grande qualcuna che sia la indicazione per il PGS qui abbiamo sempre il CGS meglio che il FISH e questa esperienza è stata pubblicata recentemente dell'America il dottore Schoolcraft ha fatto embrioni in blastocisti e ha congelato e dopo i normali hanno stato trasferiti in comparazione con il controllo che ha sido selezionato per morfologia questo studio non è prospettivo però recentemente è stato pubblicato il primo studio prospettivo randomizzato di selezione per morfologia o per array di blastocisti in donne con molto buono prognosi sono donne che abbiamo 19 ovociti però la questione qui è sì la selezione per array è più positiva che l'aspetto morfologico qui in A sono le embrioni analizzate per array qui in B sono le embrioni per morfologia e qui c'è l'implantazione ongoing pregnancy rate 69 verso 42 per lo tanto l'analisi io penso che sarà nella prossima dieci anni un vero breakthrough in fertilità e in selezione embrionaria per trasferire solamente uno e avere solamente un bambino la vitrificazione ovocitaria io penso che l'Italia con la legge restrittiva ha fatto molto molto per il sviluppo della congelazione ovocitaria e oggi parliamo della vitrificazione ovocitaria come una cosa totalmente normale io penso che il lavoro del mio gruppo di Anacovo è stata una pubblicazione molto importante è stata molto citata molto referita perché c'è il primo studio prospettivo mostrando la no inferiorità della congelazione ovocitaria in un modello di donazione ovocitaria abbiamo trasferuto embrioni provenienti del banco di ovociti con i freschi e la implantazione è stata esattamente la stessa e questo penso che è la prova scientifica più evidente che la congelazione funziona e oggi per noi per tutto il mondo non solamente la congelazione o la vitrificazione è importante per la donazione ovocitaria anche per le donne che hanno un cancro o donne che per ragione sociale o otra patologia non maligna vogli congelare o preservare la fertilità e altre situazioni compromesse della PMA come la possibilità di iperstimulazione ovarica accumulare ovociti in donne che sono baixa rispondedora eccetera eccetera io penso che è un tool assolutamente che ha cambiato in questi ultimi anni e per il futuro la fecundazione in vitro qui un po' della nostra esperienza con pazienti con cancro approssimativamente 300 donne 193 e lei vedere che recuperiamo approssimativamente 8 ovociti che sono maduri e questi sono doni solamente per social reasons che vogli congelare gli ovociti e abbiamo più e più all'Espagna donne che domandano della congelazione sociale ovocitaria e finalmente le cellule steminale le cellule steminale sono claramente motivo di riserca oggi però io la mia visione è che i prossimi 5 o 10 anni prima che noi torniamo qui per celebrare i 20 anni dell'attività di Ginepro spero tornare Marco abbiamo sviluppi che sono molto molto importanti è stato pubblicato il nascimento dei bambini dei ratoni ovviamente non sono animali però dopo di inyectare cellule steminali espermatozoide fatto nel laboratorio e fare elixir e dopo questi bambini sono naciuti per lo tanto io penso che nei prossimi anni la possibilità di avere spermatozoide creati di cellule steminali c'è una realtà e le ovuli va un po' più lento però la possibilità di avere strutture che sono molto similare alle ovociti e che ha un sviluppamento nel laboratorio semeggiante alle embrioni e la recente pubblicazione di John Tilly trovando ovociti cellule steminali in ovari in ovari di donne adulte c'è o abri totalmente aperta la possibilità di avere gametti espermatozoides ovociti in il futuro proveniente di cellule steminali e questo cambierà totalmente il trattamento della infertilità nelle nostre pazienti e un'altra cosa molto interessante che viene anche di una restrizione come in Italia per in questo caso dell'America con il signor Bush ha stato la possibilità di creare cellule indifferenziate a partire di embrioni umani ha stato proibito e per lo tanto gli investigatori americani hanno fatto un metodo molto parecciuto alla biopsia embrionaria per il PGD però qui prendiamo una cellula e il resto dell'embrione si converte in un blastocisti che può implantare come un embrione normale però questa cellula che è stata biopsiata continua dividendo e di una sola cellula abbiamo una colonia di cellule esteminali di cellule indifferenziate questo è una cosa è un procedimento totalmente rutinario oggi noi a Valencia abbiamo un banco di cellule esteminali le tre o quattro ultime linee cellulari hanno stato creato senza fare male all'embrione l'embrione continua vivo però di questo embrione abbiamo cellule esteminali per lo tanto la mia visione è che nei prossimi anni abbiamo una copia che viene a noi per stare incinta abbiamo un problema di infertilità e facciamo la fecondazione in vitro questo significa fare l'embrione al laboratorio e trasferire l'embrione e se abbiamo fortuna la donna è gravida però prima di trasferire l'embrione prendiamo una cellula che come lei l'ha mostrato è possibile di coltivare e di ottenere cellule esteminali di questo embrione prima di stato trasferuto e per lo tanto se questo bambino in il futuro ha un problema ha una malattia precisa di cellula specifica di un tessuto ha in il laboratorio una riserva di cellule indifferenziate per curare questa malattia questo tecnicamente oggi è una realtà e dobbiamo stare preparati per il futuro perché noi stiamo di alcuna maniera invuelti in questa possibilità di trattamento e finalmente lasciare l'invitazione per il congresso d'Oivi in Sevilla è una bella città non è Valencia però è una bella città e l'abbiamo in aprile del prossimo anno 2013 molte grazie per la sua attenzione